Scusate per i problemi tecnici che ci sono stati, però siamo riusciti a recuperare la situazione, grazie Giovanni. Direi che dato che abbiamo già perso un po' di l'ora saltiamo il giro di tavolo, almeno abbiamo più tempo per la presentazione e per la discussione. Comunque, lui è Alessandro Castelnuovo che è Lead Data Scientist in Cesa San Paolo e fa parte di un team che si occupa e supporta la definizione e l'implementazione di metriche di fairness per i diversi use queries di AI e è lavorato in statistiche e sta completando un dottorato in Data Science specializzandosi in fairness e explainable AI. Ok, ho presentazione velocista, devo altro tempo. Ciao a tutti, è già stato introdotto. Il titolo di questo seminario è anche lo stesso titolo della mia tesi di dottorato, quindi delle cose per forza di cosa le dirò velocemente, però se vi interessa approfondire è già pubblicata in preprint e nel link al seminario. Prima slide di introduzione ad altissimo livello, ovviamente per chi è pratico di AI sa che si può utilizzare a livello industriale e può portare innumerevoli benefici sia per le vendite, sia per riduzione di costi, ottimizzazione dei processi, eccetera. E questo è da moltissimi anni. Quello che sta cambiando è la percezione ad altissimi livelli, per esempio per la prima volta nel piano industriale di Intesa San Paolo si parla di intelligenza artificiale e sono previsti grandissimi investimenti, proprio perché c'è una maggiore fiducia e attesa nell'utilizzo dell'AI. L'AI purtroppo non sempre porta i benefici a te, nel senso che comunque è un tool che si basa sui dati, quando i dati hanno dei problemi e delle anomalie il sistema quello che fa è apprenderli e ripeterli in modo sistematico. E quindi anche grandi player quando hanno provato a fare delle applicazioni non sempre hanno avuto gli effetti sperati e anzi ci sono stati dei casi eclatanti come quelli di Amazon o di IBM Watson per la cura del cancro dove si pensava di affidarsi all'AI ma poi l'applicazione non ha avuto successo. Il problema vero è che quando un'applicazione impatta le persone, se ci sono dei bias, può provocare impatti nella vita delle persone. Non è tanto un tema dell'AI, perché l'AI quello che vuole fare è ottimizzare i processi, tu hai dei dati, hai un'ata target e lui vuole imparare a ripetere il meglio possibile quello che accade. Il problema è che quando questi dati, poi abbiamo scritto data da social mirror, ripetono dei bias che sono magari nella società, poi quello che fa l'AI è apprenderli a se stesso e proporli in modo sistematico. Inoltre ci possono essere anche delle casistiche tecniche quando, diciamo, le popolazioni minoritarie rappresentano effettivamente una minoranza nel dataset, quello che fa un algoritmo che potrebbe fare è lui che vuole, diciamo, ottimizzare le performance overall, magari ignora una piccola fetta della popolazione dove magari le performance potrebbero essere non così alte proprio perché siamo una minorità. E questo però poi l'impatta veramente, quindi magari per un data scientist è un 0,1% di scarto in una cura, sì, quello 0,1% sono persone che magari ricevono effetti indesiderati. Inoltre inizia ad esserci un nuovo rischio per le compagnie che applicano l'AI, che è il rischio di compliance, in quanto, diciamo, c'è una svolta anche a livello di regolamentare, sarà introdotta l'AI Act, che è la prima regolamentazione sull'intelligenza artificiale. In particolare l'AI Act presenta quattro livelli di rischio. Il rischio inaccettabile, che sono per esempio il social scoring, che dice in Europa non si possono fare applicazioni di social scoring o biometric identification. Il rischio alto, che è praticamente tutti gli use case che impattano i diritti fondamentali delle persone, quindi come la concessione di un prestito o come anche assunzioni, quindi in ambito hiring, o anche, diciamo, promozione o gestione dei dipendenti stessi. E poi tutte quelle applicazioni a rischio limitato o minimale. Chiaramente per una compagnia un altro grande rischio che vuole evitare è il rischio reputazionale, perché ogni volta che escono casi eclatanti in cui ci sono discriminazioni, in particolar modo provocate da sistemi di AI, ovviamente questo va subito nei giornali e può provocare grandi danni di immagine a una compagnia, che quindi nell'applicare le AI deve stare attento a evitare, anche perché, diciamo, una banca per esempio non ci guadagna nulla da discriminare. Nel momento in cui tu vuoi dare un prestito, tu lo dai alle persone che se lo possono ripagare, senza porti, diciamo, preclusioni rispetto a genere o etnia. Ci sono quindi delle misure per controllare questi livelli di rischi provocati dall'AI. Uno è sicuramente la fairness, quindi fare in modo che questi sistemi siano equi, e il seminario di oggi si rivolge soprattutto alla fairness. Un altro è explainability and transparency, quindi capire cosa avviene all'interno di questi sistemi e capirne i risultati. E poi un altro elemento molto importante è lo human oversight, in quanto è importante che questi processi, se impattano delle persone, non siano automatizzati completamente, ma ci siano sia persone alla fine del processo che hanno, diciamo, l'ultima decisione su quello che avviene e applicano il livello di controllo, per esempio tramite le explainability di quelli che sono i risultati dell'algoritmo, ma oltre a essere nel processo, l'uomo deve essere anche sopra nel processo, cioè ci deve essere una governance in quello che succede in un algoritmo. Poi vedremo bene con le metriche di fairness, l'algoritmo, è difficile creare un algoritmo che abbia performance perfetta, che faccia 100% di accuracy, c'è sempre un errore da qualche parte, la coperta la si può tirare da una parte o dall'altra, è importante che ci siano delle persone che decidino da che parte, diciamo, coprirsi di eventuali rischi di errore. E quindi tutto questo che vedete fa parte del grande cappello della Responsible AI. Entrando un po' più nel dettaglio di quello che mi sono occupato io durante il mio dottorato, ho cercato, diciamo, rispetto ad andare in un ambito specifico della fairness e aprirlo completamente, ho cercato di avere una visione più ampia, mi sono occupato di capire i bias e quindi teorie anche filosofiche alla base di quella che è, ok, spesso si parla di fairness, anche nella slide prima si diceva fairness, ma in concreto, che cos'è la fairness? Sono sicuro che se chiedesse almeno di voi, secondo te, quando è un algoritmo e fail probabilmente mi direste definizioni diverse e entreremo nel dettaglio di quelli che sono framework morali e diverse correnti filosofiche di pensiero. Abbiamo fatto un framework per cercare di dare più concretezza a quelle che sono visioni filosofiche in modo tale da creare dataset sintetici che ripercorressero questi bias. e un approfondimento di quelle che sono le metriche di fairness, quindi come misuriamo i bias all'interno dei dati e prima di addestrare un algoritmo e alla fine, diciamo, quando l'algoritmo produce risultati. Poi, come mitigare questi bias? Quindi, diciamo, se il primo aspetto è definisco le constraint, il mitigating bias è, ok, inserisco queste constraints all'interno di un modello che cercherà di ottimizzare performance rispettando questi vincoli di fairness. E poi, l'ultimo, è come essere accounting, come essere responsabili di quello che succede nei bias. Spero di passarvi nelle prossime slide, che è un mondo complesso, non lineare, dove spesso non si può avere tutto e bisogna scegliere, poi lo vedremo meglio. E l'ultima parte è, ok, bisogna scegliere come farlo in modo, in modo, responsabilmente in modo da essere in controllo. Quindi, partiamo sull'understanding bias e inizio, come vi ho già introdotto, da The Framework Philosophy. Questa magari è una parte che vede un po' meno gente che si occupa in specifico di computer science. Partiamo da definire degli spazi. Uno è l'observative space, ovvero quello che vedo all'interno dei miei dati, e il construct space, che sono le caratteristiche reali. Per esempio, facciamo finta che noi vogliamo dare un prestito. In un mondo ideale, cosa ci interessa per dare un prestito? Ci interessa la capacità del cliente di creare denaro e la volontà di ripagarlo, e quindi di non fare frodi. Ovviamente, questi due dati idealistici non è ciò che vediamo. Oppure, se vogliamo capire una persona quanto è intelligente, vorremmo avere l'intelligenza. In realtà, noi abbiamo delle loro proxy, ciò che misuriamo. Quindi, noi vediamo il reddito, vediamo i costi, vediamo i flussi di cassa, vediamo che abbia un lavoro a tempo indeterminato. Nell'esempio dell'intelligenza, magari misuriamo tramite test di cui, ovviamente, non è detto che la misura del fenomeno corrisponde al fenomeno. Noi vediamo la proxy, ma non è detto che sia la cosa reale. E da qui partono le correnti di pensiero filosofiche. Quindi, what you see is what you get. Questo è un paper molto interessante di Friedler. In pratica, questa view dice, ok, quello che vedo nell'observer space è sostanzialmente una rappresentazione fedele di quello che avviene nel construct space e ogni differenza è irrilevante ai fini, diciamo, della mia decisione finale e quindi del sistema che vado ad applicare. E un'altra corrente di pensiero opposta è we are all equal, cioè nel construct space in realtà siamo tutti uguali e se osserva delle differenze, queste differenze sono state e quindi applicherò delle metriche che vanno a eliminare, diciamo, questa introduzione di bias dovuto alla misurazione. Infine c'è un ultimo spazio che è il potential space che si differenzia ancora una volta, che è, ok, facciamo finta che alla nascita siamo tutti uguali, quindi abbiamo tutti le stesse istruzioni, le stesse possibilità, eccetera, e quindi sarebbe la realizzazione delle caratteristiche in un spazio ideale dove siamo tutti alla pari. Perché, per esempio, nel construct space io parlavo, ok, qual è la tua capacità di raccimolare denaro, ma questa è influenzata, diciamo, dal percorso di vita che uno ha avuto. Quindi tra potential space e construct space ci sono i storical bias, mentre tra construct space e service space c'è misurament bias. Noi tecnici abbiamo un approccio molto più pratico, c'è il mondo con il bias storico al suo interno, e diciamo, qua stiamo parlando di bias non dovuto all'intelligenza artificiale, ma proprio bias nella società. Poi noi vediamo solo un campione e quindi abbiamo un representation bias dal mondo campione. Poi arriviamo al nostro dataset, quindi il misurament bias, fino al bias provocato dagli algoritmi. Quindi diciamo, noi data scientists possiamo curarci della parte algoritmica di non provocare ulteriori bias, o prenderci in account dei bias precedenti, che però non sono provocati dall'intelligenza artificiale, ma sono intrinsechi nella società o nel modo in cui noi raccogliamo i dati. In modo ancora più tecnichese, Merabi nella sua survey ha differenziato, diciamo, tra bias from user to data, e quindi bias nelle variabili reali, quindi x e y sono il vero fenomeno che mi interessa. Bias from data to algorithm, diciamo, sono le variabili che raccolgo, e quindi il misurament bias, il representation bias, l'omission bias, se mi manca qualche variabile. E poi il bias from algorithm to user, e qua il bias è, diciamo, nella f di x stimata, quindi nel nostro stimatore, che genera l'algoritmo decisionale. Noi cosa abbiamo fatto in un nostro lavoro pubblicato su FACT, è fare un generatore di dati sintetici con bias. Quindi non ha molto senso generare dati con bias, se non da un punto di vista, diciamo, di ricerca educativa, nel senso, noi vogliamo dati privi di bias, quindi qual è il punto di creare un generatore di dati con bias? Lo scopo è per capire meglio come sono fatti i bias, quindi potendo controllare il meccanismo con cui vengono generati, si vede, ok, questo è esattamente un dataset con bias storico, questo è un dataset con misurament bias, e dato questo dataset che mi sono generato, uno, per esempio, a livello di ricerca, può sviluppare algoritmi per mitigarli, quindi avere una sorta di playground, anche perché nei casi reali noi non sappiamo il bias nei dati, noi magari vediamo delle correlazioni tra l'attributo sensibile e la target, ma non sappiamo se è robusto da un bias storico, da un bias di misurazione, da un bias di rappresentatività, quindi, diciamo, bias on demand permette di capire come nei dati si verificano certe caratteristiche, dati certi bias, e questo poi può avere effetti reali nel momento in cui creiamo sistemi per mitigarli. Ora, uscendo un po' dai bias, andiamo nelle metriche di fairness, quindi effettivamente come noi possiamo misurare se ci sono dei problemi di possibile discriminazione all'interno dei dati. Prima abbiamo visto diverse correnti di pensiero, e nella letteratura c'è un'interazione di metriche diverse di fairness. Per esempio, in un suo tutorial famoso, anche questo è un'area, a Yanan, presentò 21 metriche diverse di fairness. Questo lavoro era del 2018, quindi, diciamo, dal 2018 ad oggi le metriche sono aumentate ulteriormente, quindi c'è una grande confusione. Allora, alla base si dividono tra metriche causali e metriche osservazionali. Quelle osservazionali sono quelle che si possono calcolare senza ambiguità, quindi c'è una formula esatta, mentre le metriche causali tengono in conto delle relazioni causali tra variabile, e quindi qua c'è tutto il tema di misurare la relazione causale nel modo corretto, in modo tale da eliminarle alla base. All'interno delle metriche osservazionali i due grandi filoni sono metriche di gruppo e metriche individuali, poi lo vediamo meglio nella slide successiva, e anche nella metrica di gruppo tra metriche, diciamo, demografiche, quindi dove guardo solo l'output che sia pari tra gruppi diverse, e metriche invece di error rate dove vado a vedere che gli errori tra gruppi diversi siano pari. Ecco, il tema vero, oltre al fatto che ci sono tante metriche diverse, è che sotto alcune condizioni queste non sono compatibili tra loro. Quindi all'inizio dell'introduzione avevo parlato di taking an account about fairness, bisogna taking an account perché non si può avere tutto. Quindi per esempio le metriche individuali io ho un trattamento comune, per esempio io decido di avere un prestito e guardo solo la condizione finanziaria, quindi io sono eco, nel senso che tratto tutti allo stesso modo, se però nella società ci sono delle differenze, quindi per esempio un certo gruppo ha in media stipendi più alti di un altro gruppo, va da sé che quel gruppo lì otterrà una maggior percentuale di prestiti. L'altra faccia della medaglia è la statistical parity, dove si vuole dare un'equità nei risultati, quindi per esempio se io do il prestito al 60% delle persone, darò al 60% per esempio di cittadini, al 60% di non cittadini, e questo però può creare una discriminazione al contrario, nel senso che magari la condizione finanziaria di delle persone in un gruppo sfavorevole può essere peggiore e ricevere il prestito rispetto magari a un individuo che finanziariamente è migliore, ma per il fatto che sta in un gruppo privilegiato smette di ottenere il prestito. Quindi in entrambe le view sono fair da un punto di vista, ma contestabili dall'altro e qualcuno deve scegliere dove andare perché è nel caso in cui esistono correlazioni. Un altro tema, questo è molto interessante, il caso Compass, che nella slide dei rischi reputazionali era anche stato criticato pesantemente. Allora, Compass cos'era? Era un algoritmo che doveva prevedere la reciditività dei carcerati, quindi la probabilità che una persona che era stata in carcere che ricommettesse un crimine nel caso fosse stato rilasciato. Era un algoritmo di AI e chi ha creato questo algoritmo di AI in realtà aveva pensato alla fairness e aveva deciso di soddisfare una metrica di error rate parity che è la precision parity, ovvero dati due gruppi devono avere la stessa precision e in questo caso vediamo che veniva soddisfatta. Caucasici e Afroamericani avevano entrambi il 75% di precision. Propubblica aveva fatto un'indagine e aveva dimostrato che questo algoritmo provocava recall diverse. La recall degli afroamericani era più alta dei caucasici e quindi titolone di giornale danno reputazionale a Compass e ancora oggi io ho assistito a Talk dove le persone usavano Compass come esempio di unfairness. In realtà non è un esempio di unfairness è un esempio di caso in cui non viene soddisfatta l'equal opportunity ovvero la stessa recall. Quindi voi direte vabbè ma questi di Compass potevano fare un algoritmo che soddisfa sia la recall che la precision e esiste un teorema il teorema dell'impossibilità che dice che non è possibile. Quindi qualcuno si deve prendere la responsabilità di dire in questo caso qua ha senso la precision o ha senso la recall per questi motivi e nel momento in cui si prende una decisione ci sarà sempre qualcuno che potrà dire che è unfair dall'altra parte. Quindi ve l'avevo promesso che il tema sarebbe stato più complesso di dire semplicemente fair e non fair. E quindi ora arriviamo al come si mitigano come si mitigano questi bias. Da un punto di vista di un data scientist è la cosa più semplice e io lo definisco un problema risolto. Nel senso nel momento in cui viene definita con chiarezza una metrica di fairness per esempio precision parity demographic parity qualunque vi viene in mente anche che non vi ho presentato fare un algoritmo che soddisfa quella metrica ottimizzando le performance è qualcosa che si fa. Quindi una alla volta si riescono a soddisfare. le famiglie di metriche di mitigazione della fairness si dividono in tre grandi macroambiti pre-processing dove si cerca di togliere il bias diciamo nei dati si costruisce un nuovo dataset fair e si trainano modelli normali con il razionale che se l'algoritmo impara da dati senza bias poi in produzione anche se esiste bias nei dati perché i dati reali purtroppo ce l'hanno l'algoritmo comunque non discriminerà. L'in-processing per esempio adversarial neural network in cui le constraints sono all'interno del modello di previsione stessa o post-processing dove i dati sono quello che sono il modello di machine learning è qualunque vogliamo applicare e poi quello che si va a fare è aggiustare delle threshold quindi banalmente si usano soglie diverse tra i gruppi da da proteggere. noi all'interno di Intesa San Paolo abbiamo sviluppato questi questi algoritmi diciamo noi abbiamo uno stack sia di algoritmi di ottimizzazione di performance in questo caso anche di fairness e quello che siamo andati a fare è svilupparli un po' tutti in modo tale che nel momento in cui sviluppiamo lo faccio vedere in questa slide qua andiamo a creare vari modellini abbiamo varie metriche di fairness e poi possiamo andare a scegliere col business quello che ci dà il miglior trade off tra fairness e performance fairness nell'accezione che viene che viene definita è un caso interessante allora qua se andiamo a vedere ogni algoritmo vediamo che nella metrica che è chiamata soddisfare la soddisfa una perderai un minuto per vedere cosa succede se non facciamo mitigazione posso spostare il tastino a sinistra non sconda ok qua non l'ho riportato ma se andiamo a vedere la demographic parity la demographic parity in realtà è la metrica diciamo pari quote che vedevamo prima si può misurare sia sulla target quindi il dato iniziale la mia y sia sulla mia previsione del modello quindi la y stimata e si vede ma in molti studi non solo nei nostri che se tu non fai niente la demographic parity che hai è maggiore rispetto alla demographic parity all'inizio quindi al di là della metrica di fairness che uno va a scegliere non fare proprio nulla è la cosa più dannosa che uno possa fare perché oltre a non mitigare niente amplifica eventuali correlazioni che si possono avere nei dati e questo avviene anche se l'attributo sensibile non è utilizzato in input al modello quindi ok l'attributo è correlato con l'incame l'incame è correlato con la concessione di un prestito se io vado a fare un modello che non si cura assolutamente della fairness quello che si può provocare è che una situazione di sbilanciamento di gruppo iniziale viene addirittura amplificata quindi è vero che è importante scegliere la metrica di fairness ma anche quelle che non scelgo non le mitigherò ma almeno bisogna stare attenti a non amplificarle e oltre a questa diciamo carrellata veloce altri problemi che ci sono ovviamente è l'impossibilità di di soddisfare più metriche contemporaneamente ecco io qui quando vi ho parlato di teorema di impossibilità ovviamente quando penso al fatto di soddisfarlo a zero però se ci fossero delle threshold quindi 0102 quindi una legge che mi dice ok non bisogna stare di sotto di una soglia di 02 di una data metrica è vero che se io mi metto sullo zero non ne soddisfo due contemporaneamente però ci sono degli studi che dicono ok ma se ho una maglia un po' più alta in realtà posso soddisfarne calibrarne due due contemporaneamente quindi ci sono effettivamente degli studi che cercano di andare in questa direzione e poi io anche nei miei esempi vi ho sempre parlato di un gruppo maschi femmina cittadini non cittadini in realtà una grossa difficoltà è il fatto che gli attributi sensibili possano essere più di uno e quindi il fatto di andare a mettere magari la stessa costrente ma più dimensioni io provo a parlare un po' tecnichese e un po' in modo funzionale e quindi ovviamente più vado a definire attributi sensibili più complico il problema un altro tema se guardiamo le AI art parla di non discriminare sui diritti fondamentali dell'uomo e dove gli attributi sensibili sono per esempio il genere che tutti sappiamo l'età la cittadinanza però parla anche di orientamenti politici orientamenti religiosi questi sono un problema perché la banca per esempio non sa queste feature di un cliente e non le chiede immaginatevi se voi andate a chiedere un prestito e oltre al genere vi chiedono l'orientamento religioso e politico cioè è un tema il fatto di non dover discriminare su certi attributi ma non avere neanche la possibilità di misurarli e qualcuno dovrà dovrà pensare a come andare oltre questo limite e poi ultimo che spesso questi sono black box e quindi non interpretabili e quindi è difficile capire diciamo se ci sono delle regole discriminatorie un algoritmo che ho fatto durante il mio dottorato è FF3 che è un albero decisionale quindi un sistema trasparente come il decision tree dove però la possibilità di andare a iniettare delle constraints nello split del tree queste constraints possono essere anche multiple dipende da chi sta sviluppando sia sulle metriche di fairness sia sugli attributi sensibili e sia e sia sulle threshold quindi la soglia oltre la quale accetto o non accetto e sono tutte configurabili da chi addestra a questo albero decisionale ovviamente le performance dipendono direttamente da quante constraints vado a mettere se uno si diverte a mettere mille constraints o potrebbe non avere risultati quando non è possibile o potrebbe avere performance molto basse però quello che fa questo sistema è darti la possibilità di iniettarle tante alla volta o anche una alla volta ma sulle diverse metriche e quindi dare una totale flessibilità a chi a chi lo utilizza andiamo nell'ultima parte come sto andando con i tempi 5 minuti ottimo quindi ora andiamo sulla parte fino a qui ho cercato di darvi la complessità del fenomeno qua cerco di passarvi un po' come decidere da che parte andare innanzitutto oltre a parlare di what you see what you get e we are all equal si può parlare in modo un po' più concreto di metriche che mantengono lo status quo quindi la situazione è così e cerco di fare in modo che non sia amplifichi ma se faccio un modello col 100% di acciura si posso dire anche che sono 100% fair o metriche che cercano di allontanarsi allo status quo quindi nel momento in cui io applico statistical parity ma non ho un acciura sia il 100% ma fa parte del razionale per cui lo uso perché io alla base dico ok c'è un bias nei miei dati e quindi non voglio ripetere quello che sta succedendo e quindi chiaramente le prestazioni si allontaneranno ma si allontanano perché è l'accezione iniziale che dice di fare questo e quindi ha assolutamente senso ed ha senso non ancorarsi per forza alla nostra target soprattutto nel momento in cui riconosciamo che possa avere dei bias al suo interno e quindi tornare all'esempio di prima lì le tre palline in giallo sono le tre palline che devo decidere se trattare come il gruppo avvantaggiato o dargli un prestito e quindi un esercizio che si può fare ok ma se io adassi il prestito a queste persone farei un danno a lui e alla società o gli provocherei dei benefici per esempio se stiamo parlando di frodi e quelle persone dico che non sono frodi ma in quel in quel gruppo effettivamente vengono effettuate più frodi io è vero che sto facendo demographic quality però io sto vedendo meno frodi e sto facendo un danno alla società e quindi lì ha senso che che utilizzi una logica individuale dall'altro lato magari se non lo so per esempio assumo più femmine in materie tecniche non c'è nessun razionale che dica che un maschio possa essere più bravo di una femmina in una materia tecnica quindi il fatto che possa esserci una differenza che vedono i dati può essere dovuto alla società ma nel momento in cui vado a assumere quella stessa percentuale maschi e femmine su materie tecniche in realtà poi magari nel tempo mi accorgo che effettivamente non c'erano delle differenze ed era magari un gruppo mi sembrava svantaggiato ma in realtà non lo era e quindi vado a eliminare bias con questa intuizione vi presento un caso studio questa non è una cosa realmente in produzione è solo una cosa di ricerca in cui ci mettiamo nella nella situazione ideale in cui dobbiamo dare prestiti abbiamo dei bias quindi nel passato abbiamo dato meno prestiti a cittadini stranieri effettivamente perché nell'input vediamo che la condizione finanziaria degli stranieri è inferiore a quella dei non stranieri e decidiamo di dare prestiti seguendo la metrica di demographic parity demographic parity con un'accezione sia di mitigazione oggi ma sia a livello strategico ovvero voglio migliorare nel lungo termine la condizione dell'attributo svantaggiato in modo tale che in un futuro non ci sia più un bias quindi questa correlazione che oggi vedo in futuro mi scompare non ho neanche bisogno di applicare metodi di mitigazione della fairness perché ci sono già non differenze nei dati e quindi se non ci sono differenze è facile fare un modello che continui a a non rispettarle visto che non ci sono e ci chiediamo ok se io faccio un algoritmo che soddisfarà demographic parity oggi questo algoritmo continuerà a soddisfarla in produzione o a un certo punto smetterà di essere fair e poi come posso misurare il fatto che la mia scelta strategica stia effettivamente provocando benefici alla società e lo vedremo con tecniche di explainable AI poi faccio vedere una cosa che può succedere che sono i drift nel senso nel senso che allora nel le campane rappresentano il net monthly income e possiamo vedere i cittadini contro i non cittadini vediamo che i cittadini tra un anno e l'altro hanno più o meno la stessa distribuzione mentre i non cittadini hanno avuto un un cambiamento quindi un drift condizionato nel machine learning il data drift è un problema nel senso che il data drift influenza le performance nella permess il data drift influenza sia le performance che la fairness e in questo caso è un data drift condizionato siamo andati a vedere questo come impatta e vediamo che nella colonna più a sinistra che è l'anno diciamo del training e test la fairness era soddisfatta da tutti i modelli tranne un modello non mitigato nell'anno dopo il modello trainato nel 2018 smetteva di essere fair quindi quindi è importante come dire riaddestrare continuamente monitorare continuamente la fairness affinché un modello che mi funziona oggi poi continua a funzionarmi anche in produzione abbiamo fatto dei test facendo degli shock di data drift overall quindi sia su l'intero gruppo sensibile e condizionati a un intero a un solo gruppo sensibile e abbiamo visto che i drift condizionati hanno molti più impatti rispetto ai drift overhaul e i shock i drift condizionati sono anche dei casi che avvengono nei dati reali e quindi è bene fare in modo che vengano evitati infine un sistema per vedere se la nostra strategia di fairness ha dei benefici questo basato su shock con quale intuizione ok prima abbiamo detto che un modello deve essere completamente ritrenato un modello quando vuole essere demographic parity darà un contributo positivo alla classe svantaggiata per esempio con l'effetto marginale misurato dai sharp livelli vedete che lo zero sta a destra quindi lo zero sono i non cittadini il modello per far sì che ci sia demographic parity sta dando un peso positivo a destra mentre non dà un peso alla classe positiva se nel retraining questo peso diminuisce vuol dire che io riesco a dare demographic parity assegnandogli un effetto marginale più basso e quindi in questo l'intuizione vuol dire che la sua condizione finanziaria è migliorata quindi con questo metodo un po' tecnichese in realtà vado a vedere nel momento in cui il modello non assegna più effetti marginali alla classe sensibile e ho una demographic parity vuol dire che la sua condizione finanziaria è migliorata ha raggiunto la parità e quindi non ho più bisogno di mitigare per far sì che ci sia la parità e quindi in questo caso diciamo la strategia scelta ha provocato gli effetti sperati e infine abbiamo fatto una road map che ripercorresse un po' tutti questi step che sono tutti gli aspetti che bisogna controllare e ottenere cura affinché un modello in produzione sia payer e una cosa importante di questa road map è che la sua governance non riguarda solo figure tecniche ma deve essere multidisciplinare all'interno della banca ovviamente bisogna specifica per il use case quindi dato un use case si parte con lo studio degli aspetti regolatori che possono impattare con il determinato use case magari si parla già di fairness nella specificità o si parla già di soglie pensate magari in assicurazione può esserci un aspetto regolatorio diverso da una concessione di prestiti poi bisogna passare essenzialmente a un assessment dei dati e quindi guardare che correlazione ci sono in questi dati e che bias posso già individuare perché poi queste guidano la scelta delle metriche di fairness e quindi dire ok in questo use case ha senso mitigare queste cose una volta che si è scelto al 4 intervengono finalmente i nostri amici data scientist che mitigano ciò che delle persone prima hanno scelto che debbano essere mitigate e insieme al business ne ottimizzano le logiche ok qual è il modello che mi dà la miglior configurazione tra necessità di business e vincoli di fairness e infine quello che si fa poi una volta in produzione deve essere continuamente monitorato e da un punto di vista di performance come nel caso prima e di soglie di fairness ma anche da un punto di vista di aspetti regolatori legali perché nell'omento in cui ho messo in produzione un use case e per esempio cambia la condizione regolatoria va da sé che l'intero sistema vada ripensato dall'inizio questo è un recap di alcune pubblicazioni che abbiamo fatto comunque le trovate anche nel link del meeting e alcune conferenze in cui siamo andati a presentare i nostri lavori cito per esempio i GKI o FACT e niente questo è tutto grazie a tutti grazie a te grazie Alessandro direi che a questo punto aprirei un dibattito se qualcuno ha domande io ho qualche domanda ma qualcuna domanda direi anche online eventualmente si può scrivere in chat o si può partecipare da un altro gente sì in chat ok e vabbè allora se si avrebbe domanda del caso compass in cui praticamente loro hanno ottimizzato la precision non toglie ma poi c'è stata di la loro toglie noi noi speriamo di impossibile in data ci diciamo che non siamo ottimizzati in grande ok quindi i rischi restano comunque nel meglio applicarle oppure no allora questo è il motivo per cui per esempio noi stiamo prendendo persone che non è prettamente tecnica ma la figura del data ethics nel senso dato questo vincolo la soluzione è giustificare la propria scelta nel senso ok io ho fatto un algoritmo che soddisfa la precision non le posso soddisfare entrambe ma devo affiancare a questo algoritmo che soddisfa la precision una giustificazione del perché in questo specifico caso ha senso la precision e non ha senso la la recall quindi nel momento in cui capiterà arriverà una dei giornalisti che dimostreranno che non soddisfiamo la recall oltre che dirci va bene grazie guarda che stiamo misurando la precision anche dire io però lo sapevo questa cosa e mi ero già parato giustificando il motivo per cui sono andato in una direzione rispetto che l'altra e quindi questa è un po' alla figura del data ethics che con modelli filosofici giustifica una determinata una determinata scelta e poi c'è l'altro tema che ti dicevo il teorema dell'impossibilità quando metto sogli a zero non posso fare precision parity e recall parity a zero però magari con una calibrazione di sogli un po' meno stringenti magari in qualche modo si riescono a soddisfare il trame grazie impossibile o comunque il più comune da trattarli in linea ti do una risposta ad alto livello che non sono sicuro che possa fare disclosure però io faccio fairness da quando ho iniziato il dottorato tre anni fa e chiaramente era una pippa passatemi il termine che ci facevamo noi data scientist bottom up per dire è importante anche la responsible AI ora è uscita una regolamentazione l'AI act eccetera quindi non è più solo una cosa che può essere trattata a livello di data scientist in un'organizzazione ma deve essere una cosa trattata a livello di governance quindi non è più solo la struttura di data science che prende delle decisioni in merito alla fairness ma c'è per esempio anche compliance che si dota diciamo delle competenze per poter capire in che direzione andare e mettere un bollino quindi è una cosa diventa ad alto livello dell'organizzazione diciamo attualmente ci si fa domande sull'intersezionalità sulle multidimensionalità o siamo ancora uno step precedente le domande le facciamo noi le dimostriamo guarda occhio che non possiamo fare tutto state attenti andate in una certa direzione perché abbiamo raggiunto una certa contezza comunque del fenomeno del numero di stiavolo cercando di fare cercare di avere un po' di balance su diversi aspetti comunque si 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 aspetta che in futuro l'overall ci possono essere casi anche fortunati non lo so per esempio concessione concessione del prestito vado a vedermi i dati e scopro che l'income medio delle donne uguale l'income medio dei maschi c'è già la concessione già ortogonale al genere e quindi lì non è vero che non posso soddisfare più metri quando non c'è bias devo mantenere questa situazione e quindi dico ok questa situazione stiamo in un caso fortunato dove non c'è non c'è bias manteniamo il bias e lì si fa trasversamento su qualsiasi di metri poi quando c'è bisogna scegliere lì sono metri più complessi molto interessante soprattutto anche per i tanti riferimenti che ci hai dato ero curioso rispetto a una parte della presentazione in cui tu menzionavi la possibilità di intervenire su tre livelli distinti quindi pre-processing e in post-processing a livello di modelli diciamo che intuitivamente cosa si può fare in pre-processing e in post-processing posso arrivarci intitivamente non so se può essere più o meno giusto però a livello di modello mi chiedevo nell'approccio che per esempio tu hai sviluppato con il decision tree diciamo che il comportamento del modello è trasparente nel senso che è intellegibile cioè io se lo malo capisco che poi anche la rete neurale è trasparente però oltre quell'aspetto che ti menzionavi dell'atversario è unlearning quando quindi hai dei modelli che sono un po' più complessi un po' più black box hai qualche altro riferimento di approccio interessante che si può utilizzare per appunto intervenire a questo livello allora io ho solo di lavori di neural network configurati in modi diversi in cui si cerca di mettere queste questioni poi ammetto che quella parte lì non sono esattamente un fenomeno per esempio io mi sono occupato tanto del pre-processing però ho riferimenti te li posso passare perfetto grazie ok ma sì allora ho fatto il video ma innanzitutto ho una domanda molto più precisa quando ci hai fatto vedere il vostro come dire il vostro sistema che utilizzate la fairness nell'accezione definita e volevo capire qual è poi la vostra definizione di fairness che puntificamente usate quindi nel dover fare queste scelte poi da voi esatto come funziona all'interno di una realtà appunto concreta non può essere quella di un'azienda di una banca la decisione della metrica di fairness da seguire ok non si vede in questo tool perché è statico ma gli assi sono dinamici nel senso vedete l'F1 può diventare precision può diventare accuracy demographic parity può diventare precision parity recall parity equal opportunity eccetera e quindi vedi i vari diciamo i vari assi dinamici poi tu scegli il tuo asset fairness il tuo asset performance e hai delle metriche per calcolare il trade off tra le due che hai scelto negli assi questo è un caso in cui assumiamo sia stata scelta demographic parity e il modello migliore viene quel pre-processing però nel momento in cui non è demographic parity tu cambi e cambia la diciamo la mappa dei pallini e poi volevo fare con più una sì una altra domanda diciamo soprattutto mi sembra molto interessante quello che hai detto e credo che sia un problema di ricerca ancora risolto e comunque concreto per quanto le AI Act metta solo dei paletti molto come dire generali al momento non c'è una regolamentazione così stringente come è stata fatta in altri argomenti in altri settori quel trade off tra privacy e l'equità algoritmica quindi il fatto che io metto in produzione un modello dovrei non discriminare secondo certe dimensioni di cui non ne conosco non ho i dati concretamente non ho le informazioni per poter sapere se sto discriminando o no rispetto a quella quella variabile lì volevo chiederti appunto magari è una cosa che hai visto solo in parte però qual è la tua la tua impresa la tua visione su questo perché immagino che ad oggi in realtà appunto come che si approcciano al mondo del provare a come dire la cultura di modelli più equi immagino che al momento la principale soluzione sia ignorare il problema quindi volevo sapere da parte tua qual è il tuo punto di vista qual è la tua secondo te quali possono essere le prospettive di questo specifico ok allora inizio due chiavi di lettura la prima sono totalmente d'accordo l'AI Act in molte requisiti di Fairness è troppo e super generico però da un punto di vista è la prima regolamentazione che finalmente parla di Fairness quindi il fatto di avere una regolamentazione che finalmente parla di Fairness vuol dire che le istituzioni che usano l'AI finalmente si pongono al problema non è più come dicevo prima una cosa legata sulla data science ma di free invento una cosa di governance e una cosa di compliance quindi grazie AI Act ora c'è il come dire la lente di ingrandimento su questo tema che è un tema importante e bisogna parlarne bisogna soddisfarlo a livello industriale bisogna fare tanta ricerca dall'altro lato sono d'accordo la strada è ancora lunga oggi non c'è un manuale di istruzioni o un regolamento che dice se tu soddisfi questo sei fair perché c'è un grande margine di interpretazione e questo è anche un super assist a un nostro ultimo lavoro solo in preprint e under submission su vari giornali che è una mappa di tutte le limitazioni che oggi ci sono per avere diciamo algoritmi fair dove noi diciamo che questa mappa questo gap è soprattutto a livello sociale e ideologico quindi il discorso ok tu mi dici di essere fair ma io come mi permetto a chiedere l'orientamento religioso oppure qual è la metrica di fair oppure qual è la soglia della metrica di fairness all'ultimo fact faceva straridere che tutti usano 0-2 non so se avete mai fatto lavori di fairness la soglia che tutti mettono per vedere se una cosa è fair e non fair è 0-2 e questo è nato perché i primi signori che hanno fatto un lavoro avevano usato questa soglia ma completamente arbitrariamente hanno messo questo 0-2 e tutti da lì l'hanno usato come benchmark best practice e loro parlavano a fact ed erano stupiti che il mondo è andato verso lo 0-2 perché loro scrivendo col paper hanno deciso di usare quella soglia lì quindi effettivamente è un tema qualcuno lo deve dire qual è la soglia giusta più tante altre cose se puoi sentire il mondo della causalità anche lì c'è c'è un mondo infinito di cose ambigue va bene va bene allora ringrazio ancora Alessandro grazie grazie